Allora, parliamo di questo ordine del giorno collegato al piano casa. Allora, arriva il piano casa in assemblea capitolina e lo fa in silenzio, senza che consiglieri e media ne parlino. Eppure PDS l'avevano tonato contro il piano casa prima delle elezioni. In comune come alla Regione, dove Zingaretti ha lasciato sostanzialmente inalterato il piano Polverini. Oggi invece ci hanno ripensato. Noi vogliamo chiarire le motivazioni del nostro no, allargando il discorso alla presunta necessità di nuovo cemento per far fronte all'emergenza abitativa. Quanto di più falso. Infatti, prima di nuove costruzioni, occorrerebbe rivedere il dimensionamento del piano regolatore in base alle reali esigenze. Considerando infatti le migliaia di appartamenti sfitti o invenduti, oltre al patrimonio immobiliare di Roma Capitale, ancora da censire. E ai numerosi furbetti che, pur essendo abbienti, vivono in immobili del comune del centro storico, versando canoni irrisori. In questo contesto, lo scelerato piano casa, che prevede nuove cubature e cambi di destinazione d'uso, va considerato come un vero e proprio nuovo condono. Un nuovo maxi abuso che favorisce pochi privati a danno della collettività.